Entro gennaio prenderanno il via i lavori per la realizzazione della barriera soffolta nell'area del porto di Pescara, mentre ai primi di marzo si procederà al taglio di 70 metri della diga foranea. Il cronoprogramma degli interventi è stato stabilito questa mattina a Pescara nel corso di una riunione, convocata dal presidente della regione Luciano D'Alfonso, a cui hanno partecipato il comandante della Capitaneria di Porto Enrico Moretti e i rappresentanti del provveditorato alle opere marine del comune di Pescara, dell'Arta e dell'Arap. Nei prossimi giorni ci sarà l'adeguamento alle prescrizioni del via del progetto esecutivo della barriera soffolta. In seguito la conferenza dei servizi autorizzerà l'immersione del materiale e la movimentazione sommersa dei fondali interessati dalla barriera e in ultima istanza la ditta che si è aggiudicata all'appalto potrà avviare immediatamente i lavori in quanto non sono necessari ulteriori passaggi tecnici e burocratici. Per la diga foranea invece bisognerà attendere 45 giorni per il deposito del progetto esecutivo, redatto dalla stessa ditta che si è aggiudicata alla gara per i lavori. Anche questo progetto dovrà recepire le prescrizioni del comitato via. Subito dopo l'elaborato sarà approvato e il cantiere potrà aprire. Nel frattempo la regione attraverso l'Arap ha avviato la procedimentalizzazione delle ulteriori opere già previste nel porto di Pescara e calate nel nuovo piano regolatore portuale recentemente approvato, tra cui il prolungamento della banchina sud, interventi per i quali nel masterplan sono stati destinati investimenti per 15 milioni di euro.